Inclusione sociale Sensibilizzazione ai temi della disabilità È il senso dell'iniziativa promossa dalla pizzeria Congusto di Torre del Greco che lo scorso 4 dicembre nell'ambito della giornata universale del disabile celebratasi domenica scorsa ha organizzato un piccolo laboratorio per diversamente abili Un'esperienza speciale messa in campo con il Comitato Famiglie Disabili Torresi e con il Centro Polifunzionale per Disabilità OICOS che hanno così visto i propri ragazzi cimentarsi nella gustosa preparazione della tradizionale pizza margherita dall'impasto alla cottura un viaggio straordinario che ha regalato ai tanti giovani un sorriso di solidarietà e di inclusione Oggi il Comitato Famiglie Disabili Torresi si è ritrovato qua al ristorante con gusto il signor Crescenzo così gentile ci ha voluto invitare a far fare un po' di laboratorio ai ragazzi facendo delle pizze devo dire la verità è stata una cosa bellissima si sono divertiti tantissimo veramente lo ringraziamo di cuore e dopo ci ha regalato un pranzo a tutti quanti veramente una persona gentilissima e questa è la nostra giornata della disabilità mondiale Oggi è la giornata della disabilità e ci ho tenuto tanto ad organizzare questa cosa per i ragazzi sono qui vicino al nostro locale sempre nella palestra Gil vengono un paio di volte a settimana e ho avuto un pensiero per loro li conosco da tanti anni sono venuti anche quest'estate ci sono venuti a trovare abbiamo pensato un po' di attività per loro abbiamo organizzato un laboratorio hanno fatto la pizza e sono felice per loro tutto fatto con il cuore ci ha aiutato in questo anche lo chef Michele De Leo è venuto il loro staff e quindi hanno cucinato per loro piccolo pranzo di Natale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti